Siamo adesso con il dottore Astone, dottore grazie di essere con noi, nel suo intervento lei ha parlato di grandi progressi ed è la realtà nel fare terapie avanzate, nel poter proporre ai pazienti un percorso sicuramente all'avanguardia rispetto ad anni fa nell'affrontare il tumore, però tutto quello che è di contorno alla diagnosi e alla terapia è ancora un anello un po' mancante, anche nella comunicazione lei ha fatto un bellissimo riferimento di comunicare non solo informazioni ma anche emozioni, di ascoltare il vissuto del paziente perché poi sicuramente si cura la malattia ma si deve curare la malattia in quello specifico paziente. Io amo ricordare un breve, fare una considerazione, i medici condotti di una volta avevano pochissime risorse a disposizione ma avevano un grande rapporto con i loro assistiti, per cui si creava un rapporto di grande intimità, di grande conforto. Poi è arrivata la tecnologia, la tecnologia ci ha portato delle metodiche assolutamente fondamentali e che oggi non potremo assolutamente di cui farà meno dalla diagnostica, che ne so, TAC, PET, nonché ci ha portato anche delle nozioni di biologia molecolare che stanno contribuendo e che probabilmente sono il futuro della cura dei tumori, cose che chiaramente non possono essere fatte senza un supporto tecnologico che noi abbiamo. Ma il rischio o il danno che queste tecnologie hanno prodotto è stato quello di spostare l'attenzione dal paziente, dall'uomo alla macchina. Nel senso che oggi noi spesso, come dice Terzani in uno delle sue iscritti, lo citiamo, dice l'esperto di turno veniva a visitarmi o meglio a visitare il mio fegato o meglio a visitare l'immagine del mio fegato che appariva su un monitor. Ecco, questa è la spersonalizzazione, come si definisce la malattia senza malato, cioè come se noi prendessimo la malattia, buttiamo da parte il corpo della persona, che viceversa è il protagonista, e curiamo fuori del corpo un qualche cosa senza curarci di chi è la persona. Questo non è medicina, questo è tecnologismo, il recupero va fatto recuperando la relazione del paziente, la sfida del terzo millennio. Giustamente la cura della malattia avviene attraverso due interlocutori, il medico che conosce la scienza, che conosce le malattie, che ha studiato malattie perché sui libri si studiano le malattie, non si studiano i pazienti e il capitolo è fatto malattie del cuore, malattie dello stomaco, malattie del fegato e così via. Il paziente conosce la sua malattia, come dice Gianni Grassi, e gran parte della relazione funziona nel momento in cui il paziente trasmette al medico le conoscenze della sua malattia e il medico è in grado di indirizzarle verso un percorso terapeutico scientificamente valido. Senza l'interazione non si va da nessuna parte. In oncologia gli argomenti che abbiamo trattato oggi testimoniano ancora questo binomio. Da una parte le cure, che io metterei lato tecnologia, cure avanzate, cure molto sofisticate, molto efficaci, che sia questo un messaggio chiaro, perché le cure di oggi sono sicuramente efficaci. Possiamo dire che oggi come oggi riusciamo a salvare più del 50% delle pazienti affette da tumore donna che sarebbero destinate a ricadere, ma abbiamo trascurato la relazione col malato. Quindi oggi è stata una testimonianza di come viceversa bisogna recuperare il rapporto col malato perché la gestione degli eventi avversi e delle complicanze passa attraverso la relazione col malato. Dirò di più, se noi oggi curiamo le persone perché possiamo curarle, dobbiamo preoccuparci anche di come sarà il futuro di queste persone che oggi guariscono. Il loro reinserimento nel mondo del lavoro, il loro reinserimento sociale, il loro continuare a essere madri, mogli e ad avere una vita sana. Per far questo dobbiamo comunicare con la persona e pianificare insieme quali sono le migliori strategie. A volte sacrificando il trattamento, quando il prezzo degli effetti collaterali è troppo alto per quella situazione clinica, a volte viceversa privilegiando la terapia di supporto, lì dove viceversa il trattamento è stato pianificato e giustificato, ma a quel punto sarà la stessa paziente ad ammetterci quella grinuta in più, quella volontà in più per raggiungere un traguardo che non è stato imposto da me, ma che è stato scelto insieme. Anche perché credo che quell'alleanza terapeutica faccia sì che ci sia poi una partecipazione diversa, perché quello che spaventa di più oltre alla diagnosi naturalmente è l'ignoto che aspetta, perché molto spesso purtroppo non c'è il tempo, non c'è la possibilità di comunicare, come dicevamo prima, non solo quali saranno le terapie, ma quali saranno magari gli effetti collaterali, come abbiamo visto molti pazienti non hanno a volte neanche il coraggio, hanno comunque un pudore, esatto, come se l'effetto collaterale fosse qualche cosa di dovuto, lo devo subire, l'uomo forte sopporta, questo concetto di sopportare non è assolutamente vero, uso soprattutto quando si parla di altri tipi di terapia, per esempio la terapia del dolore, il concetto che debba essere qualcosa che va sopportato, oggi come oggi bisogna noi essere in grado di trasmettere alle persone il concetto che le terapie si possono fare senza dolore, senza sofferenza e a questo punto instaurare insieme un percorso di gestione degli eventi collaterali e chiudo dicendo una cosa che per non parlare di farmaci, non è detto che la cura degli effetti collaterali passi attraverso i farmaci, le proposte e le esperienze che sono state riportate dalle signore presenti in sala testimoniano come a volte può più un supporto familiare, sociale, di associazioni che non una semplice pillolina data in solitudine chiusa in una casa dove una persona vive da sola. Esistono molte iniziative che passano attraverso l'ipnosi, terapie comportamentali, corsi di yoga, ginnastica riabilitativa che hanno lo scopo di aiutare le persone a recuperare, non voglio dire la voglia di vivere, ma recuperare sicuramente una positività di pensiero che è fondamentale anche per la riuscita della cura. Dottore, ringraziamo moltissimo per il suo contributo, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Grazie.